Salani presenta, per la collana anche i giovani leggono i classici, L'abbazia di Northanger, di Jane Austen, letto da Denise Tantucci. 1. Chi l'avesse conosciuta nella prima infanzia non avrebbe certo pensato che Catherine Morland era nata per diventare un'eroina. L'ambiente in cui viveva, il carattere del padre e della madre, la sua stessa persona e le attitudini, tutto era concordemente contro di lei. Suo padre era un pastore, senza per questo essere trasandato o povero, e sebbene si chiamasse Richard e non fosse mai stato bello, era un uomo assai rispettabile. Gudeva di una notevole agiatezza, oltre che di due buone parrocchie, e non era affatto propenso a tenere sotto chiave le sue figliole. Mrs. Morland era una donna assennata, di buon carattere e quel che più conta di sana costituzione. Aveva già tre figli quando nacque Catherine, e invece di morire nel mettere quest'ultima al mondo, come poteva anche accadere, continuò a vivere e visse per avere altri sei figli, vederseli crescere d'attorno, e godere essa pure di ottima salute. Una famiglia di dieci figli, quando vi sono teste, braccia e gambe sufficienti per tutti, è sempre considerata una bella famiglia. Ma a parte il numero, i Morland non meritavano certo tale attributo, perché generalmente erano assai insignificanti, e Catherine, per molti anni della sua vita, non lo fu meno degli altri. Era magra e sgraziata, aveva la pelle scialba, capelli neri e piatti, lineamenti grossi. Questo è il fisico. Non meno inadatto all'eroismo si rivelava lo spirito. Lei piacevano tutti i giochi per ragazzi, e preferiva di gran lunga il cricket non solo alle bambole, ma i più prestigiosi divertimenti dell'infanzia. Allevare una marmotta, nutrire un canarino o annaffiare un rosaio. La bimba infatti non aveva alcuna passione per il giardinaggio, e se per caso coglieva dei fiori, lo faceva soprattutto per il piacere di arrecare un danno, così almeno vi era motivo di ritenere, perché sceglieva sempre quei fiori che le avevano vietato di cogliere. Tali erano le sue inclinazioni, altrettanto straordinarie le sue attitudini. Non riusciva ad apprendere o comprendere cosa alcuna se non le veniva insegnata, e a volte nemmeno in questo caso perché era spesso distratta, e all'occorrenza stupida. Sua madre impiegò tre mesi per insegnarle solo a ripetere la preghiera del povero, dopodiché Sally, la sorella minore, sapeva recitarla meglio di lei. Non che Catherine fosse sempre stupida, niente affatto. Imparò la favola, la lepre e gli amici, rapidamente come ogni altra bimba in Inghilterra. La mamma desiderava che studiasse la musica. Catherine era sicura che vi avrebbe preso gusto perché si divertiva moltissimo a pestare i tasti della vecchia spinetta abbandonata, e a otto anni cominciò. Studiò un anno e poi le venne annoia, e Mrs. Morland, che non pretendeva di perfezionare la cultura artistica delle sue figliole a dispetto della loro incapacità o avversione, le permise di smettere. Il giorno in cui l'insegnante di musica scomparve fu per Catherine uno dei più felici della sua vita. Per il disegno non aveva maggiore attitudine, ma quando riusciva ad avere dalla mamma la busta di una lettera o a impossessarsi di un qualsiasi pezzo di carta, faceva del suo meglio per disegnare case, alberi, galline e pulcini, con immagini molto simili fra loro. Suo padre le insegnò a scrivere a contare. Sua madre a parlare francese. I progressi ottenuti nei due insegnamenti non furono brillanti, e quando lo poteva, la bimba si ingegnava di schivare le lezioni. Che strano inconcepibile carattere. Perché con tutti questi sintomi di pervertimento a soli dieci anni non era cattiva né di cuore né di temperamento, raramente caparbia, quasi mai litigiosa e molto carina con i piccini, tranne qualche parentesi di tirannia. Era d'altro canto rumorosa e scontrosa, odiava la disciplina e la pulizia personale, e nulla le piaceva tanto al mondo quanto il rotolarsi giù per il verde pendio dietro la casa. Tale era Catherine Morland a dieci anni. A quindici era già migliorata. Cominciò ad arricciarsi i capelli e a sognare i balli. La carnagione si faceva più bella. I lineamenti apparivano addolciti da rotondità e colore. Gli occhi si animavano e tutta la figura se ne avvantaggiava. Il suo amore per il sudicio cedette il posto a una tendenza alla ricercatezza. Diventò pulita col diventare elegante e godeva nel sentire talvolta le considerazioni del babbo e della mamma sulla sua trasformazione. Catherine diventa una gran bella ragazza. È quasi bellina oggi. Erano le parole che di quando in quando le giungevano all'orecchio e come le risuonavano gradite. L'apprendere di essere quasi bellina per una fanciulla che nei primi quindici anni della sua vita è stata insignificante è una gioia più grande di quanto non possa provare chi vanta la bellezza fin dalla culla. Mrs. Morland era una gran brava donna e desiderava dare ai figli la migliore educazione possibile. Ma era così indaffarata a mettere al mondo e ad allevare i suoi piccoli che le figliole maggiori restavano inevitabilmente abbandonate a se stesse. Non c'è quindi da stupirsi se Catherine, che per natura nulla aveva di eroico, preferiva a 14 anni il cricket, il gioco della palla, l'equitazione e le scorribande nei campi ai libri, o almeno ai libri di studio, perché verso i libri di racconti che non richiedevano riflessione la bimba non aveva nessuna ostilità. Ma da 15 a 17 anni si allenò a diventare un'eroina, leggendo tutti i romanzi che le eroine devono conoscere per arricchire la loro mente, di quelle citazioni tanto utili e consolanti nelle vicissitudini della loro vita avventurosa. Da Pope imparò a biasimare coloro che ostentano un dolore simulato. Da Gray che molti fiori sbocciano per fiorire non visti e sperdere il loro profumo nell'aereo deserto. Da Thompson che è un compito delizioso insegnare alle giovani menti a germogliare. E da Shakespeare ha preso un corredo di nozioni utili, tra l'altro che i nezzi e lievi come l'aria sono per i gelosi conferme forti, come prove di sacra scrittura. Che il povero insetto che calpestiamo prova nella sofferenza corporea tanto dolore quanto un gigante che muore. E che una giovane donna innamorata appare sempre come la rassegnazione su un piedistallo che sorride al dolore. In questo campo la cultura di Catherine era sufficiente. In molti altri si avvicinava alla perfezione, perché se la fanciulla non scriveva sonetti amava tuttavia leggerli. E se era improbabile che riuscisse a mandare in estasi il pubblico con un preludio di sua creazione, riusciva a seguire senza troppo sforzo la musica eseguita da altri. La sua grave lacuna era il disegno, del quale non aveva proprio alcuna nozione. Nemmeno quel tanto che basta una fanciulla per abbozzare il profilo dell'innamorato e poter essere così sorpresa nell'atto di eseguirlo. Nel disegno ella veniva a trovarsi di gran lunga al di sotto del vero livello eroico, ma non misurava ancora la propria miseria perché non aveva innamorati da ritrarre. Aveva raggiunto l'età di 17 anni senza incontrare nemmeno un giovane piacente che avesse destato la sua sensibilità, senza ispirare una vera passione e suscitare ammirazione alcuna se non molto moderata e fugace. Strano davvero. Ma le cose strane generalmente possono essere spiegate quando se ne ricerchi onestamente la causa. Nelle vicinanze non vi erano nobili, non vi era nemmeno un baronetto. Tra le famiglie amiche, non una che avesse allevato e mantenuto un trovatello. Nessun giovane la cui origine fosse sconosciuta. Mr. Morland non aveva pupilli e lo squire della parrocchia non aveva figli. Ma quando una fanciulla è destinata a diventare un'eroina, le deplorevoli manchevolezze di 40 famiglie del vicinato non potranno prevalere contro di lei. Qualcosa dovrà accadere. Qualcosa inevitabilmente accadrà per mettere l'eroe sul suo cammino. Mr. Allen, proprietario di quasi tutte le terre intorno a Fullerton, il villaggio del Wildshire dove vivevano i Morland, dovette andare a Bath per combattere la sua disposizione alla gotta. E sua moglie, una donna pacata, affezionata a Miss Morland, forse considerando che, se una fanciulla non trova avventure nel proprio paese, deve andare a cercarle altrove, invitò la giovinetta a recarvisi con loro. I Morland ne furono assai soddisfatti e Catherine, felice oltre ogni dire. 2. Perché il lettore sia compiutamente informato? E per il caso che le pagine successive non riescano a rendere esattamente la personalità di Catherine Morland? A quanto è stato già detto sulle doti fisiche e morali? 3. Perché le pagine successive non riescono a rendere esattamente la personalità di